ciao a tutti ragazzi bentornati su yakadventure oggi un tutorial come promesso su come installare pokemon go 1.5.0 sui nostri device una versione già premodificata senza il jailbreak e anche se comunque avessimo il jailbreak la procedura funziona lo stesso andiamo a scaricare sidenpactor che ora sto installando dai link in descrizione qui sotto al video potete trovare i link diretti per il download in base al vostro sistema operativo e anche il file ipa di pokemon go potete scaricarlo sempre da qui sotto è un link diretto al mio dropbox dopodiché colleghiamo l'iphone al mac al pc con nostro cavo usb e non ci resta che trascinare il file ipa che abbiamo scaricato di pokemon go sulla finestra di sidenpactor e lo rilasciamo lì sopra sidenpactor ci chiede di inserire il nostro apple id cioè la nostra mail dell'account apple state tranquilli dovete inserirla anche perché sennò non possiamo proseguire non succederà niente né all'iphone né al vostro account questa procedura dura qualche minuto non fate caso se la mia è più veloce perché ho mandato veloce il video per non far venire il video troppo lungo ecco pokemon go è installato adesso vorrei fare una piccola premessa se avete già seguito una mia precedente guida comunque avete già installato sidenpactor e quindi avete l'avete usato per installare altre applicazioni ci sta che pokemon go si apra già senza andare a autorizzare lo sviluppatore mentre se è la prima volta che usate sidenpactor sicuramente arriverà questo messaggio sviluppatore non autorizzato tranquilli andiamo in impostazioni generali scorriamo in basso fino alla voce gestione profili e dispositivo andiamo a toccare sul nostro sulla nostra mail che abbiamo inserito del dell'account apple autorizza e autorizza ancora una volta benissimo ragazzi adesso l'applicazione si apre lanciamo pokemon go ovviamente dovete fare il login con vostro account io già ho già fatto tutto ok abbiamo il joystick abbiamo il menu andiamo ad attivare fake location dal menu impostazioni e accendiamo ok ragazzi io vi saluto qua tanto sapete come fare lasciatemi un like commentate questo video e iscrivetevi al mio canale al prossimo video